ciao 28 chissà che un giorno non li pronuncerò più questi numeri questi giorni allora sono le 20 e 45 a breve inizia la partita fiorentina inter siamo nel 2024 per chi guarderà questo video in un'altra epoca in un'altra galassia in un altro pianeta mi trovo sulla terra così mi hanno detto mi hanno detto che la terra è rotonda e che gli esseri umani stanno soffrendo si stanno ammazzando tra di loro ammazzano dei bambini li sventrano li mandano delle bombe li fanno sotterrare sotto le case gli uomini trucidano e violentano le donne questo è una parte del pianeta terra un'altra parte i medici avvelenano le persone dando loro dei farmaci che sono tossici che hanno degli effetti secondari che vanno a toccare qualsiasi organo e fino possono creare anche la morte utilizzano dunque una medicina tossica per curare le persone e non parlano più di guarigione ma di cura delle persone quasi sempre ok questo è quanto mi viene da dire in questo momento a il cibo anche troviamo delle sostanze nel cibo che non hanno nessun senso nel senso che se tu prendi l'analisi degli ingredienti di una pagnotta di pane ci sono degli ingredienti che non hanno senso che non servono a fare il pane però li mettono dentro allora perché chi lo sa ci sono delle scie che vediamo nel cielo e che sono delle onde delle onde delle onde nel cielo poi con il vento diventa del vento diventano delle grandi espansioni di ma di chissà cosa ci viene detto che sono delle scie di condensa degli aerei e la popolazione ci crede e pensa che io sono rimbambito perché ho capito che con queste scie di sicuro viene cambiato il clima a volte dal sole giorno dopo due giorni dopo arriva la pioggia se fa caldo poi fa freddo poi se ci sono altre cause di queste scie nel cielo sicuramente ce ne sono e tutta quella che si chiama geo ingegneria climatica un sistema di distruzione di quello che è l'energia vitale che è un'energia neutra energia pura di amore e di bellezza ovunque c'è una volontà di distruggere volontariamente una persona di fare del male unicamente per i piaceri di fare del male allora lì c'è di mezzo il non umano e al di là del non umano c'è di mezzo non energia positiva e non vita il non no dove c'è la vita c'è il sì sia la vita sia l'amore sia qualsiasi cosa che sia buona per te buona per chi ti sta vicino questo video è nato così questi giorni trovo una più grande decentratura opero anche in un modo migliore nella mia vita quotidiana di tutti i giorni personalmente fisicamente mi sento meglio ogni giorno mentalmente mi sento più forte a livello di gestione delle emozioni anche o più facilità eppure tutto può essere migliorato se vogliamo dobbiamo raggiungere proprio un punto di non ritorno quel punto dove sei al di là degli estremi sei al di là di aver bisogno di un punto di equilibrio un punto dove non è più necessario qualsiasi tecnica qualsiasi metodo non abbiamo bisogno di metodi ok come dicevo ieri il non metodo è la migliore cosa non metto do non metodo metodo ho capito il non metodo non c'è una teoria che risolverà problemi che vedi attorno a te ad un certo momento ci sarà un collasso poche parole in un certo momento l'energia vira da un'altra parte e vedrai sempre di più manifestazioni di consapevolezza di amore di bellezza e di aiuto reciproco e ognuno di noi troverà sempre più facilmente il suo posto il suo posto nel senso che riuscirà a esprimere se stesso nella più grande facilità e nel più grande interesse di tutti questo è il futuro che ci aspetta è bello perché molte persone prevedono il futuro dicono tante belle cose c'è chi canalizza gli angeli va bene anche lui se qualcuno canalizza gli angeli se qualcuno fa il medium bravo sicuramente bravo ma non è da solo non è da solo qualcuno lo sta guidando in un modo o nell'altro e i suoi interessi saranno sempre i suoi non saranno i tuoi io non sono lo strumento di nessuno nessuno può strumentalizzarmi e dunque anche oggi io dichiaro la mia assoluta indipendenza la mia assoluta proprietà intellettuale psichica emotiva e fisica e dichiaro bannite tutte le entità del mio corpo della mia psiche della mia mente e dalle mie emozioni niente può entrare in questa mia creatura ho scelto questo corpo per fare questa esperienza e questa esperienza si sta svolgendo come previsto era tutto previsto per arrivare a dare ti hanno tolto ok capisci e dunque se ora sai dare perché ti è stato tolto è stata tolta l'autostima ti è stata tolta la la tua sicurezza il tuo coraggio ti è stato tolto la tua il tuo diritto la parola ognuno gli è stato tolto qualcosa e quel qualcosa che è stato tolto ora che l'ha capito diventa la sua più grande forza e con questo mi riallaccio sicuramente a te alberto ferrarini dove dici che il conflitto al contrario è il tuo più grande talento e sì ne dette tantissime di cose giuste e vere utili e importanti alberto allora grazie questa sera a te io saluto tutti voi che avete guardato il video vi auguro una bellissima serata io penso che su questo canale di olivi e l'usuardi trovate veramente un video per ognuno di voi forse anche più di uno andare oltre quello che ti blocca andare oltre le reticenze lanciarti in una nuova sfida lanciarti in un nuovo giorno con grande gioia con grande positività con la certezza che quella giornata ti sta aspettando da tanto tempo per rivelare qualcosa di nuovo qualcosa di nuovo a te o qualcuno che ti sta vicino domani come la crei quella giornata anche tu inizia a riflettere ogni giorno la sera prima di come vuoi creare la tua giornata la vuoi di un certo tipo bene allora quella giornata sarà così giornata attuale mia è stata meravigliosa magnifica e ora continuo e sto attento anche sì non posso né virare troppo a destra né troppo a sinistra ma non troppo neanche in mezzo posso semplicemente cambiare tutto il tempo spostarmi e mentre cambio una parte di me rimane costante è come dire che la ruota gira ma il perno della ruota non gira lui o gira anche lui se tutto girasse sarebbe un capovolgimento totale chissà che un giorno capovolgeremo tutto che è poi il contrario di tutto haug a te una bellissima serata guerriero samurai pizzaiolo donnaiolo western union anche tu hai la tua parola da dire ok se ti è piaciuto il video commentalo metti il mi piace e ci troviamo domani per un nuovo video ok a te una buona serata e a presto ciao